A proposito del progetto IARC, io stesso chiesi di partecipare a quella che a metà anno scorso fu selezionata come commissione di consulenti intorno al progetto IARC. Bene, dalla metà dell'anno scorso ad oggi non sono mai stato convocato, quindi la dice lunga sulla bellezza del progetto, ma sulla fattibilità poi ci perdiamo, come al soldi. Quindi purtroppo, nonostante che io fossi molto fiducioso su questo... Ma l'hai dimostrato più volte anche qui? Perché conosco quello che IARC è stato capace di fare altrove e quindi ero fiducioso, ma vedo che la realizzazione ischia stenta.